Stimulazione, sorteggio, quarti di finale della UEFA Champions League con mio figlio, saluta? Ciao! Però prima? Da sì, dai! Dai! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, lo abbiamo fatto la passata stagione? Sì, me lo ricordo. Ti ricordi? Eri un po' più piccola? Sì. Più piccolo? Avevo sei anni. Quest'altro invece ce n'hai? Sette. Ok, come passa il tempo. Allora, facciamo e lo beccammo, l'anno scorso abbiamo fatto il sorteggio dei quarti di finale della Champions e beccammo, beccammo Juventus-Real Madrid. Quindi quest'anno, ripetiamo, ripetiamo, c'è il figliolo qui che mi coadiuverà. Adesso andiamo a vedere quali sono le squadre che saranno nei quarti di finale della Champions domani, ore 12. Sorteggio di Nyon. Allora, Barcellona, Juventus, Liverpool, Tottenham, Porto, Manchester United, Manchester City e Ajax. Ok? Allora, di queste otto, a te quale piacerebbe... Sì, vabbè, no, la Juventus è quella che tifi. Eh. No, quale ti piacerebbe che affrontasse la Juve delle altre sette? Manchester United. Manchester United? La squadra del Pogba. Eh. Ecco, il figlio si è espresso e sarà il figlio, sarà qui Cosmin con le sue mani innocenti che chiaramente pescherà, no? Nell'urna di Nyon, ecco qua, la pendola per fare la minestra. No? La solida. Eh, quella, no, la spessa... La stessa è diversa. Eh, ce n'abbiamo un'altra. Eh, vieni proprio vicino, ecco, ti si deve, bravo, ti si deve vedere bene. Eh, ci abbiamo dentro gli otto, chiaramente, fogliettini che abbiamo fatto e, eh, quindi, io direi di partire subito. Sì. No, vediamo se anche quest'anno, insomma, togliamo il telefono perché me impiccia, mettiamo qui il mouse. Allora, partiamo subito. Andiamo col primo, diamo una, una mescolata. Tchè, caparella. Allora, prima squadra, dai, pesca. Quella, foglietti sono tutti, tutti uguali. Allora, vai, fai tutto, 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 tutto. Ti sei oggi, sei... Tanto, stacola, ma, giustamente, stacola, aspetta. De chi è sta maglia? Girate. De Ronaldo. Ma mi pare scontato. Vabbè, dai, dai, a parte queste faccezie. Allora, chi è beccato subito? Chi è tu? Allora, mi ha pescato subito la Juventus. Non lo so, io non sapevo chi era il nome. Si, si vede, ecco qua. Allora, la Juventus ha beccato... La prima, subito, ecco, è arrivato anche Ale. Aspetta, tu mettiti, mettiti qua. Allora, la Juventus, ok. Adesso vediamo con chi va a sbattere la Juventus. Il Real Madrid non ci sta, quindi... Vai, pesca, dai, dai, pesca. Allora, vai. Attenzione, attenzione. Becchiamo il... Becchiamo il... Allora, è un Manchester, però non è il Manchester United, è il Manchester City. È il Manchester City di Pep Guardiola. Insomma, che qualcuno vorrebbe a tutti i costi, insomma, sarebbe un quarto del finale con i controciufoli per la Juventus. Va bene, dai. Facciamo velocissimamente anche le altre tre estrazioni, dai. Perché la Juventus l'abbiamo beccata subito, quindi... Vai. Non c'è niente altro. È una miseria. Mica pizza e fighi. Mia cutica, vai. Adesso ti faccio pesca, facciamo pesca. Allora, ci abbiamo il Tottenham. Adesso andiamo spediti, perché la Juve l'abbiamo beccata subito. Allora, ci abbiamo il Tottenham contro... Vai, pesca tu, adesso un foglio, dai. Pesca tu. Anche Alessandro mi viene a fare acqua di uvare, vai. Lo apri, poi lo dai, Cosmini, perché non sa leggere. Aspetta, ti si vede qua. Si vede una capoccia. Eccolo. Dai. Dai, dai, veloce però, che il video non deve essere tanto lungo. Eh, ci metto. Dai, aspetta, qua. Qua, eh. Dai, abito, 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 dai. Eccolo. Il bello della video. Porto e Porto. Porto, Porto. Tottenham Porto, ecco qua. Tottenham Porto, poi vai, vai. Pesca lui. Una testa, dai. Allora, chi è? Vediamo un po'. Chi è? Ajax. Ci abbiamo l'Ajax, eccolo qua. L'Ajax. Ecco l'Ajax contro. Pesca Alessandro, vai. Contro. Ce la fai aprirlo? Sì. Dobbiamo essere veloci perché il video non deve essere tanto lungo. Bello, starlo United. Ecco qua, sì. E quindi, e quindi va da sé, va da sé che l'ultima, le ultime due sarebbero, queste le prendo io, va bene? Eh, non sbagliare troppo. No, vabbè, è facile, sarebbero Liverpool e Barcellona. Ecco qua, Liverpool e Barcellona. La maglia di Cristiano Ronaldo è stata così forte che mi ha fatto davvero la prima Juve. Eh sì, eh sì, però va bene, ecco qua, Barcellona, Barcellona. Va bene, allora, fratelli e sorelle, brothers and sisters, questi i nostri accoppiamenti, i nostri quarti di finale, vieni più vicino. Quindi, Juve-Manchester City, Tottenham-Porto, Ajax-Manchester United e Liverpool-Barcellona. Come sempre, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ve ne va e adesso vediamo domani quello che succederà, se ci accosteremo alla realtà, giusto? Sì, sì, sì. Alla fine, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine, vava Juve! Ciao a tutti!